Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. Sono cominciate stanotte verso l'una le operazioni di sbarco degli oltre 800 migranti salvati a largo delle coste della Libia nei giorni scorsi e giunti al porto di Salerno. Uno ad uno sono scesi dal rimorchiatore d'altura CM Pilot di nazionalità norvegese per essere prima controllati dagli agenti della Polizia di Stato e dagli ispettori del Ministero della Salute per poi essere assistiti dai volontari della Croce Rossa italiana e dal Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno. Chi ha avuto bisogno di cure mediche è stato subito preso in consegna dalla Croce Rossa, è stato il caso delle sei donne gravide, di alcuni migranti con ferite d'arma da fuoco e di chi non ha più retto allo stress di un viaggio più da incubo che della speranza. Per tutti gli altri ci ha batte nuove, una bottiglina d'acqua ed un pasto, in attesa di essere poi registrati e fotografati dagli agenti della questura di Salerno, coadiuvati nel lavoro anche da carabinieri, guardia di finanza e dai militari del XIX reggimento guide. A seguire da vicino le operazioni il prefetto Salvatore Malfi e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Una macchina già rodata, quella messa su dalla prefettura, d'altronde siamo al XIII sbarco al porto di Salerno. Gli oltre 800 migranti salvati davanti alla costa della Libia da due navi militari in due operazioni diverse provengono un po' da tutte le nazioni africane, spiccano comunque soprattutto i nigeriani che sono quasi la metà della totalità, ma con loro anche siriani e pakistani. I migranti, dopo le operazioni di riconoscimento, sono stati smistati presso i vari centri d'accoglienza. L'attracco, il primo di notte, da quando le navi di migranti si fermano anche a Salerno, si è svolto senza problemi. La scelta di effettuare lo sbarco nelle ore notturne ha consentito a tutti di lavorare con temperature accettabili e di non essere invasivi con le attività del porto commerciale.